Non arrabbiatevi per uno nulla, purtroppo i nostri nervi sono sempre a fior di pelle perché il ritmo della vita moderna ci sottopone ad un logorio continuo, incessante. Ma dal logorio della vita moderna ci possiamo difendere e la difesa è Cinar, l'aperitivo a base di carcioco. Bevete anche voi Cinar e bevetelo così, 40 grammi di Cinar, una buccia di arancia o di limone e una spruzzata di self ben ghiacciato. Ecco il vostro Cinar contro il logorio della vita moderna.